Allora, salva a tutti cari amici, vi volevo dire una cosa che sto studiando questi ultimi giorni, una cosa molto semplice, allora io ho notato che stanno facendo tenere tutte le persone dentro casa e dicono che è per l'epidemia del coronavirus e questo a me mi va bene perché moltissime persone si sono ammalate in situazioni, in circostanze molto anomale, io definisco questo non una semplice influenza ma un virus governativo creato e modificato geneticamente in laboratorio per creare determinati tipi di danni, avere un'incubazione dai 10 ai 15 giorni per poter essere poi trasmesso ad altre persone in breve tempo e creare tre tipi di epidemie o tre tipi di virus sembra immessi all'interno del coronavirus. Qualcuno ha detto che il virus del coronavirus all'interno ci siano tracce di altre forme di batteri come quello dell'HIV che distrugge il sistema immunitario dell'individuo e poi qualche un altro ha detto che c'è un altro tipo di virus all'interno di questo coronavirus che sarebbe il virus dell'ebola, quindi sono tre tipi di virus all'interno di uno. Ho messo un articolo l'altro giorno, lo vado a riprendere, su uno dei miei canali, su uno dei miei blog, vittime del controllo neurale satellitare blogspot, poi ho un altro blog satellitispia.blogspot, e poi ho un altro blog che è ricercatore di fenomeni spiegabili nel mondo. Allora, io ho messo questa mia ricerca che poi ho trovato su altri tipi di siti. Allora, un secondo che trovo la ricerca è così, mi spiego bene. Sindrome da complesso di persecuzione hanno definito la pandemia del coronavirus, ma molte persone ovviamente si sono ammalate e hanno avuto gravissimi problemi. Dicono che all'interno del coronavirus c'è una parte di batteri della SARS, scusate, no dell'ebola, della SARS. Una parte sembrano essere più vicini anche all'HIV. Quindi hanno effettuato l'N-CoV del 2019 con l'HIV-1 e il GP120 e Gang. Sono dei tipi di virus e batteri che praticamente potrebbero essere stati inseriti all'interno di questo virus modificato nei laboratori. Infatti sembra anche che questi tipi di virus chimici e batteriologici servono proprio per determinati tipi di attacchi effettuati da agenzie sovrastituzionali che operano proprio per creare danni a intere nazioni, a interi continenti e quindi danno l'hanno creato a tutto il mondo. Però ricordatevi che il nuovo ordine mondiale, le agenzie deviate sovrastituzionali, non hanno problemi di denaro perché sono loro che stampano il denaro e sono loro che praticamente mettono in giro il denaro. La cosa che gli interessa al nuovo ordine mondiale e alle massonerie mondiali è creare la pandemia, dopo creata la pandemia loro devono studiare a tavolino come riuscire a guadagnare più soldi possibili da questa situazione. Faccio un esempio, vendita del famigelato vaccino, vendita di determinati farmaci curativi, vendita di mascherine, vendita di tamponi per fare ovviamente l'analisi del coronavirus e tantissime altre cose. Oltre a manovrare l'economia e le borse a livello mondiale, a secondo delle società che vengono messe in prima linea per prendere appalti miliardari, perché qui si fa che se dobbiamo fare tutti quanti il vaccino del coronavirus, qui si parla di 3, 4, 5 miliardi di persone, cioè 30 euro per 5 miliardi, fate per calcolo quanti miliardi incasserebbero queste società o queste agenzie sopra istituzionali. però io ho pensato anche un'altra cosa, queste ovviamente sono delle mie ricerche, delle mie deduzioni. Mettiamo il caso che delle agenzie sopra istituzionali erano a conoscenza dell'avvicinarsi al pianeta Terra di un asteroide e questo asteroide avrebbe creato delle modifiche del campo magnetico terrestre della risonanza di Schumann che avrebbe creato dei grossi problemi attraverso tempeste magnetiche e avrebbero potuto creare problemi alle reti satellitari mondiali. Ascoltate bene, mettiamo il caso che le reti satellitari mondiali che spiano e controllano la mente di determinati individui a livello globale l'occhio di Dio oppure il sistema matrix che crea lo stato ipnotico e narcoletico attraverso la corrente elettrica nazionale, attraverso le radiofrequenze che vengono immesse attraverso le antenne dei ricevitori e trasmettitori dati o radio anche dei telefonini. Il 5G è anche uno di questi perché la sperimentazione del sistema 5G viene fatta da parecchi anni. Non è che domani creano il 5G, domani creano i telefoni del 5G e fanno partire il 5G. No, non funziona così. Il 5G minimo parte due o tre anni prima e poi vengono modulate determinate frequenze per vedere la massima velocità di trasmissioni dati, cioè se prima per spiarvi il vostro telefonino ci mettevano 10 minuti, adesso col 5G ci mettono 30 secondi oppure a secondo di che cosa devono spiare del vostro telefono, prenderanno i dati in tempo reale attraverso la rete del 5G. Perché la rete del 5G avrà la possibilità di trasmettere e ricevere i dati in una velocità incredibile, addirittura in multibanda, cioè praticamente possono immettere e levare e mettere e levare al vostro telefono o interagire e utilizzare il vostro telefono come se voi avete un impianto di video sorveglianza wifi all'interno del vostro telefonino. Quindi possono rimanere collegati in alta risoluzione, in video in alta risoluzione, in audio in alta risoluzione, con le trasmissioni dati e tutti i sensori, i rilevatori del telefono, il giroscopio, la bussola, la temperatura e tantissime altre cose. L'impronte digitali, il termometro all'interno del telefono che è una cosa molto importante e potranno addirittura interagire con le scansioni biometriche del volto, il riconoscimento dell'audio o del timbro vocale. Mettiamo il caso che questo asteroide entrando nelle vicinanze dell'atmosfera può creare un blackout a livello mondiale e si potrebbero resettare attraverso una tempesta magnetica o elettromagnetica causata da questa asteroide e potrebbero andare in tilt tutti i sistemi satellitari, tutti i sistemi radar da terra, ufficiale, ARP. Quando si parla della terra piatta non si parla realmente della terra piatta, il messaggio è un altro. Stanno appiattendo le frequenze della risonanza terrestre e stanno rendendo queste frequenze una sorta di controllo e di arma per la manipolazione della mente, per il controllo delle frequenze del nostro cervello. Noi sappiamo perfettamente che se moduliamo all'interno dei nostri centri nervosi delle frequenze che camuffano determinate patologie, loro possono ricreare attraverso un ammalato che sta all'interno di un ospedale in terapia intensiva e questo ammalato ha il reale coronavirus con le armi ad energia diretta loro possono con la mappatura cerebrale e la mappatura delle frequenze della risonanza del nostro corpo mappare le frequenze del malato di coronavirus, prendere queste frequenze e spararle in un'intera area geografica sia ad aerata da terra, i ripetitori dei campi elettrici, i ripetitori dei nostri telefonini che amplificherebbero queste patologie sul nostro corpo. Quante vittime del controllo mentale gli mettevano i blocchi in gola, gli facevano sentire una forte pressione in gola e incominciavano a tossire? Quante persone che vengono definite degli addotti, ma addotti non sono, sono solo cavi e sotto esperimenti per il controllo dello stato ipnotico e narcoletico, dello stato del sonnambulismo con la perdita della memoria temporanea, mentre stanno a letto e mentre gli fanno fare dei sogni che in realtà sono programmi e filmati immessi nel cervello della vittima per fargli credere che sono in realtà addotti con le abduction. Questi giochetti a me me li hanno fatti per anni, mi volevano far credere che io vedevo gli angeli, io vedevo Satana, che io ero un po' seduto da qualche demone, che mi rapivano gli alieni, che poi erano i militari, centinaia di cose. Ma io ho detto scusate, ma con i simulatori neurali attraverso i sistemi di mappatura celebrale voi mi potete far vedere o mi potete far credere tutto quello che voi volete, perché voi avete la mappatura del cervello umano e sapete quale parte sollecitare del cervello e quale parte modificare attraverso le patologie e le frequenze delle patologie che voi avete dentro le armi psicotroniche che vengono sparate nel mio cervello, vengono sparate nella mia abitazione. Mettiamo il caso che questa meteorite entrando nel sistema solare, avvicinandosi alla Terra, possa creare un blackout globale delle armi psicotroniche, delle armi neuroniche, delle frequenze ARP artificiali, non frequenze ARP naturali, che fatalità, le frequenze ARP corrispondono alle frequenze di patologie cerebrali. Ma guarda che strano, le uscille chimiche vengono sparate in orbita per creare una gabbia di Faraday intorno al nostro pianeta. Questo è il nostro pianeta, io creo la gabbia intorno al nostro pianeta. Non vi siete chiesti perché? Perché se con i satelliti sparo all'interno della gabbia, le frequenze rimbalzano e rimangono sempre all'interno dell'atmosfera o rimangono all'interno dell'orbita bassa, dai 450 chilometri ai 750 chilometri di altezza. Fatalità, la fascia dove ci sono i satelliti spia e i super satelliti spia e i nuovi satelliti che verranno armati dell'interforce spaziale o l'interforce geospaziale, che è l'intelligence di nuova generazione, di ultima generazione, l'intelligence con più tecnologie avanzate a livello mondiale. Praticamente loro stanno venti anni avanti alle tecnologie attuali, se no pure trent'anni più avanti delle tecnologie attuali che noi utilizziamo adesso. Infatti si diceva e in alcune fotografie si è visto che c'erano nei Stati Uniti d'America dei 007 negli anni, non so se erano anni 50, 60, 70 di preciso, che già avevano telefonini piccolini e potevano parlare con questi dispositivi, addirittura si mettevano l'auricolare e potevano interagire e comunicare con le altre persone. La tecnologia militare nel passare del tempo diventa obsoleta, la fanno diventare una tecnologia civile perché la fanno diventare segretata fino a un certo periodo. Quando non viene più utilizzata questa tecnologia non è più un segreto e la possono utilizzare anche per i civili. Quindi questo sistema vi fa capire che quando la gente dice ho visto l'UFO, ho visto l'UFO che vola e invece era lo stealth, mentre lo utilizzavano per fare determinati tipi di test nell'area 51, dicevano che erano astronavi che atterravano e che scendevano o addirittura i nuovi caccia di ultima generazione che sembrano dei droni, dicevano non è possibile, le caccia non possono alzarsi in perpendicolare oppure fare delle acrobazie a 360 gradi si spostano in qualunque tipo di parallasse o qualunque tipo di asse orizzontale e verticale. I droni possono fare tutto. Pensate che i nuovi ottacor, i nuovi droni con otto motori possono addirittura fare delle acrobazie e avere una stabilità in orbita sconvolgente, incredibile. Io addirittura sono rimasto a bocca aperta di quello che possono fare. In Cina hanno sincronizzato 200 droni e sotto ai droni hanno messo delle luci a led RGB, che sono le stesse identiche colorazioni dei led che vengono utilizzati per le televisioni o tubi catodici a colori e hanno riprodotto in cielo il famigerato progetto Bluebeam, ma in realtà hanno riprodotto in cielo delle immagini televisive che venivano trasmesse da questi 200 droni. Si vedevano addirittura tipo astronavi che giravano, tipo piccoli astronavi tipo Star Trek che volavano e ovviamente la gente che li vede all'interno del deserto mentre stanno facendo dei test o delle sperimentazioni anche per le tecnologie militari si credono che sono le flotteglie perché non è possibile che nel 2020 abbiamo i telefonini in 8K adesso che fanno filmati in 8K con risoluzioni addirittura a 100 megapixel con zoom elevatissimi. Pensate che ho due telefonini che fanno i filmati in 4K e si vede perfettamente nitidissimo il filmato, ancora si vedono fotografie di immagini di bassissima risoluzione, di bassissima qualità e addirittura tutti sfogati. Non è possibile, non è possibile. Quelle sono delle bufale di qualcuno che vuole far credere attraverso poi dei piccoli programmini tipo Photoshop o di programmi tipo Photoshop che modificano la fotografia per far credere che quello è un alieno o che quello è un'astronave. Non è così. Se gli alieni arriveranno sulla Terra, arriveranno come in Deppism Day o come Visitors. L'astronave, si vedrà benissimo l'astronave, questi scenderanno con le loro astronave più piccole e verranno a parlare sulla Terra. Perché ovviamente che gliene frega all'estraterrestre di venire sulla Terra a nascondersi e poi scappare o addirittura all'estraterrestre nell'addascio che gli parla il Romanaccio e gli canta Roma Capoccia. Ma che ne sa l'estraterrestre di Roma Capoccia, della canzone Roma Capoccia o gli parla il Romanaccio stretto? Non è possibile. L'estraterrestre può parlare altre 500.000 500.000 lingue, 500.000 dialetti differenti a quelli della Terra. Solo sulla Terra non so quante lingue parliamo e arrivano questi dallo spazio e parlano il Romanaccio. C'è qualcosa che non quadra. O le vittime si suggestionano perché vengono manipolate attraverso il controllo mentale, gli fanno credere che sono gli angeli, i demoni, Satana, i morti, i fantasma. Dovete un attimo capire che cosa vi succede perché se siete dei creduloni il controllo mentale serve proprio a questo per manipolare i creduloni. E poi quando voi dite no a me non mi possono manipolare perché io io capisco, riconosco subito quello che mi stanno facendo, è proprio il momento che si mette lì l'equipe medica e ti manipolano il cervello per farti credere proprio le stupitaggini. E lì crederete a tutte le stupitaggini, a tutto crederete perché vi sembrerà la realtà, ma in realtà è una simulazione, viviamo in un sogno a realtà virtuale. Allora ritornando a quello di prima, mettiamo il caso che l'asteroide arrivando vicino alla Terra, o passando vicino alla Terra, manda in tilt attraverso una tempesta magnetica a tutti questi sistemi satellitari e tutte queste tecnologie di controllo e di manipolazione della nostra mente e dei stati ipnotici e narcoletici. E mettiamo il caso che le persone, al momento che questi sistemi vanno in tilt, vi ricordate che in Italia è mancata la corrente per tutto un giorno, mi ricordo che era il giorno della notte bianca, non so se ve lo ricordate, le persone sembrava che quando si sono risvegliate la mattina, che stavano tutti bene, che sorridevano, non avevano problemi, raccontavano le barzellette, scherzavano, abbracciavano le persone che incontravano per strada. E lì c'era qualcosa di strano, e ve lo dico io di esperienza personale, che ho fatto dei test e dell'analisi in tempo reale per vedere i cambiamenti di determinate persone senza corrente elettrica nazionale. Erano totalmente altre persone, pure gli animali. allora mettiamo il caso che questi del nuovo ordine mondiale, delle massonerie segrete del sistema deviato sopra istituzionale, che spia le masse attraverso stati ipnotici, tipo il film, essi vivono che dopo che distruggono il satellite, il puntatore satellitare o la parabola che mandava i segnali al satellite, tutte le persone si sono risvegliate e hanno visto un altro mondo intorno a loro. Hanno visto la realtà di quello che praticamente gli veniva fatto vedere attraverso il subincoscio, attraverso messaggi subliminali. Come nel film Matrix, vuoi la pillola blu, vuoi la pillola rossa, cioè vuoi dormire e vuoi rimanere sveglio. Lui ha detto voglio rimanere risveglio e gli hanno fatto vedere il mondo reale. Allora per ovviare a un risveglio della coscienza, un risveglio delle masse, hanno creato questa pandemia a livello mondiale, è una supposizione la mia questa, però ho fatto un ragionamento logico e ho studiato determinati tipi di avvenimenti che si sono concatenati a quello del coronavirus. Mettiamo il caso, arriva l'asteroide, tempesta elettromagnetica o tempesta magnetica, vanno intilte tutti i sistemi satellitari, tutte le trasmissioni dati, vanno intilte le centrali elettriche, va intilte la rete mondiale del sistema deviato e camuffato, ARP, e all'improvviso tutti ci risvegliamo. Allora come possiamo risolvere questo problema? Chiudiamo tutti dentro casa, diciamo che c'è una pandemia creata appositamente nei laboratori, così tutti stanno a casa tranquilli e beati. Se succede qualcosa o se cambiano degli avvenimenti intorno a loro, se ne accorgeranno in parte, perché se te cammini per strada e vedi dei cartelli con una scritta e dopo vedi, ti risvegli e vedi il messaggio all'interno di quella scritta, tipo un messaggio subliminare, di subincoscio, sarebbe un problema. Questa è un'ipotesi, ma è un'ipotesi che bisogna valutare. Io non avevo predetto il futuro, gli avevo detto che le persone ammalate in Italia diventavano tantissime, oltre 30.000 e fatalità sono oltre 30.000, forse oltre 40.000. Non avete notato una cosa molto strana ultimamente? Che da quando sta arrivando questo meteorite vicino alla Terra, stanno incominciando a succedere delle cose strane. Terremoti continui, piccoli terremoti di avvisaglia e fatalità stanno succedendo questi terremoti. Piccoli maremoti sotterrani sotto gli oceani e alcune persone si sono accorti di questo e stanno accadendo delle cose molto anomali. Mettiamo il caso che le persone che si stanno risvegliando da questo sistema di cambiamento delle frequenze elettromagnetiche o delle frequenze della risonanza sensoriale attraverso il sistema globale della risonanza sintetica, l'ho definita, artificiale di Schumann, non la risonanza naturale. La risonanza naturale del pianeta Terra è una cosa, la risonanza artificiale è creata appositamente per immettere frequenze nel nostro cervello e fare abituare il nostro cervello a determinate frequenze di comando attraverso i sistemi di trasmissione radio. Ci stanno riempendo di nano particolato. Il nano particolato viene creato attraverso i tubi di scarico delle autovetture. È una polvere talmente sottile che quando noi respiriamo la polvere passa attraverso i polmoni, entra circolo nel sangue e praticamente arriva al cervello e noi diventiamo delle antenne umane. Fatalità, la stessa identica polvere, delle scie chimiche, la stessa identica, gli stessi identici metalli dei vaccini, gli stessi identici metallici nei farmaci, gli stessi identici metalli che troviamo all'interno dell'acqua, sono i stessi identici metalli che costruiscono le antenne per il digitale terrestre, le antenne che noi abbiamo sui tetti. Ma com'è possibile questa cosa? Ma ci vogliono trasformare in antenne umane, radio pilotate attraverso questo sistema di controllo e manipolazione della mente? Io sto dicendo solamente delle ipotesi, ma fate caso che questo sia tutta una leggenda, che sto dicendo una leggenda metropolitana, che ci siano dei deviati governati dal nuovo ordine mondiale e che operano attraverso le agenzie militari sopra istituzionali e che hanno la possibilità di utilizzare un'arma, questa è un'arma che spia e controlla tutte le persone e può manipolare determinate frequenze per rendere schiava o schiavi tutti i cittadini di una popolazione, di un continente o dell'intero pianeta. Pensate bene quanti miliardi potrebbero guadagnare queste persone. Voi dite e come guadagnano? Io immetto il desiderio di fare uso di sostanze stupefacenti a milioni di persone e questi vanno ad acquistare droghe. Immetto il desiderio e la dipendenza di acquistare sigarette in continuazione o di bere alcol in continuazione, oppure di giocare ai grattevinci o alle macchinette all'interno dei bar o all'interno dei casino o all'interno delle sale giochi. O immetto delle patologie che devono rincoglionire la popolazione a non uccidere e far sì che la popolazione vati in continuazione in farmacia per acquistare determinati tipi di farmaci. Tutto questo farebbe entrare miliardi e miliardi di euro nelle casse di determinate organizzazioni o associazioni o massonerie colletti bianchi illuminati a livello globale. Aspettiamo che passi questa asteroide. Aspettiamo che l'Europa incominci a dare via libera per poter prendere i fondi europei di 550 miliardi di salva Stato e poi vedrete tutti quanti o vedremo tutti quanti come uscirà fuori il vaccino, come usciranno fuori i farmaci per debellare questo coronavirus. Voi dite tutti questi soldi che ci faranno per la sanità? No. Stanno creando le nuove reti dell'intelligenza e dell'interforce geospaziale e costano l'ira di Dio e siccome lo Stato e molte altre nazioni tipo l'Europa non ha la possibilità di mettere di tasca propria un'intera quantità di denaro per costruire questi nuovi sistemi satellitari. Voglio ricordare che un satellite in orbita delle super alte lecologie si parla di circa un miliardo di euro, un satellite solo e poi il satellite deve avere delle basi da terra, degli elaboratori, dei server per gestire dati in continuazione attraverso il sistema di interazione di dati che vengono registrati in continuazione tutti i giorni perché tutti i giorni noi veniamo controllati e spiati da questi sistemi. H24 e con il 5G i dati saranno talmente tanti che dovranno immagazzinare addirittura anche i filmati che vengono presi sui nostri telefoni. È giusto la sicurezza ma dire che la sicurezza è definita indagini preventive dell'intelligence ma in realtà indagini preventive vuol dire spionaggio della popolazione globale, pilotare la popolazione globale è totalmente un'altra cosa. Io ho studiato queste tecnologie, sto studiando questi armamenti per il controllo mentale, armi psicotroniche, armi neuroniche, armi biofotoniche, armi infrasoniche dal 10 febbraio del 2001 dopo che sono stato fermato per una scusa, è stata questa, dalla gendarmeria nera di Roma. La gendarmeria nera mi ha fermato oppure qualcuno ha ordinato la gendarmeria nera di fermarmi e dopo mi hanno messo all'interno di un programma di controllo e manipolazione mentale per cercare di creare nella mia mente determinati pensieri che erano ovviamente sbagliati, errati, per farmi fare determinati tipi di reati. Ma io ho detto scusa ma perché io devo pensare a quella cosa o devo pensare a quell'altra? A me non me ne frega proprio niente, io non bevo perché devo bere, io non faccio uso di allucenogeni perché devo prendere l'allucenogeno. Tutto questo era concatenato da determinati programmi che dovevano scaturire in me un desiderio fortissimo alla dipendenza. Allora io ho detto ma io ho un buon lavoro, parliamo del 2001, pensate che nel 2001 stavo aprendo una società di costruzioni edili, una società che costruiva ville o appartamenti o palazzi o palazzine con le più alte tecnologie esistenti all'epoca. La tecnologia domotica, pannelli solari, pannelli fotovoltaici, geotermica e oleonica perché volevo creare le case con l'energia zero, cioè le case con l'energia propria e volevo essere il primo in Italia a creare un qualcosa del genere e specializzarmi in questi settori ben specifici. Case antiradiazioni, ho il progetto di costruire case antiradiazioni, ovviamente costano per costruire case antiradiazioni, però già che si eliminano i campi elettrici in alternata all'interno dell'abitazione è una cosa molto importante per il nostro corpo, per la nostra salute e per la nostra armonia a livello notturno, quando noi dormiamo a livello del rilassamento, perché se eliminiamo determinate frequenze elettromagnetiche dentro casa possiamo rilassarci durante il sonno ed entrare nella fase REM e rimanere nella fase REM e poi rilassare tutto il nostro cervello, tutti i nostri centi nervosi e anche il nostro corpo. E la mattina con queste accortezze di eliminare i campi elettromagnetici all'interno della nostra abitazione, tutto ciò che sono radiofrequenze, noi ci accorgiamo che la mattina quando ci alziamo ci alziamo riposati, tranquilli, abbeati, invece adesso le persone si alzano la mattina che sono stanche perché non dormono la notte, li tengono in stato di dormiteglia, ma non sono alieni, sono le radiofrequenze sparate nella nostra rete elettrica, nei nostri centri nervosi e farò dei test anche alla nuova conferenza che sto preparando a Roma, insieme al gruppo dell'Associazione Centro Generale Ricerche, complotto di Stato, dove parleremo ovviamente del 5G, parleremo del coronavirus, parleremo delle immigrazioni clandestine, parleremo di controllo mentale con dei testimoni molto importanti, parleremo anche della strage di Ustica e della guerra elettronica che è stata utilizzata per depistare le indagini nella strage di Ustica, perché è tutto collegato e dopo lo capirete durante la conferenza. La conferenza la faremo di domenica, dalla mattina fino alla sera, partirà intorno alle 10 e mezza e finirà verso le 19, 18 e 30, 19, tutto il giorno. Ci sarà la pausa pranzo, dove voi ovviamente se volete poi rimanere anche all'interno del locale per poter mangiare qualcosa perché ci sarà ovviamente all'interno del locale ci sarà un bar con un buffet e il locale ha anche una cucina dove si possono degustare dei piatti tipici insomma di Roma o italiani oppure c'è anche la pizzeria all'interno. Ho fatto questo per far sì di far rimanere tutte le persone dalla mattina fino alla sera senza che ci spostate a mangiare qui e andate a mangiare lì poi ritornate dopo. No, noi abbiamo cercato di trovare un locale con un bar con la gastronomia in modo che le persone senza che si allontano possano mangiare direttamente in un'altra sala però all'interno della conferenza stessa e poi la sera come noi facciamo di solito chi vuole rimanere tutti quelli della conferenza e tutti i relatori rimangono ovviamente a cena e se volete rimanere con noi a cena dopo la conferenza potete rimanere a cena. Voglio ricordare che noi stiamo facendo una raccolta fondi perché io devo acquistare una telecamera termica che deve essere professionale perché io devo vedere bene la sagoma del corpo che io sto riprendendo sia attraverso un una telecamera normale che mi si deve interfacciare con la sovrapposizione della telecamera termica. Una persona ha commentato su un mio vito pochi giorni fa ah non è vero che fanno le scansioni geotermiche con le telecamere a distanza non si possono fare purtroppo è un ignorante in materia la scansione termica viene fatta dai anni 50 60 70 addirittura i militari per vedere determinate persone che stavano all'interno del deserto addirittura di notte o addirittura all'interno delle frontiere utilizzano proprio queste telecamere termiche a distanza che rilevano la temperatura addirittura gli occhi dei serpenti riescono a rilevare il termico le frequenze di calore questa persona ha detto che non esistevano e fatalità adesso metteranno su tutti eh l'ingressi dei porti degli aeroporti delle stazioni o delle metropolitane proprio queste telecamere intelligenti che faranno la scansione della temperatura del corpo la scansione biometrica del nostro viso purtroppo molte persone sono ignoranti ma non ignoranti ignorano la realtà o ignorano la reale tecnologia perché sono rimasti ai tempi del medioevo infatti a molte persone che dico ma a te sei un ricercatore non scienziano ma a te stai ancora al medioevo che stai ancora con l'archibugio con l'arche con le frecce e allora eh purtroppo queste persone rimangono con le loro eh con le loro con i loro pensieri eh io purtroppo non posso fare niente devono essere si devono evolvere però purtroppo il controllo mentale blocca determinate parti del cervello per farli rimanere ovviamente eh per farli ragionare con il cervello rettile come diceva il grande Stefano di frecce e mertello voglio ricordare l'ultima cosa la conferenza all'interno della conferenza si farà una raccolta fondi per acquistare questo attrezzatore io devo acquistare anche un computer fisso e forse un eventuale portatile che deve essere molto potente per effettuare rendering di filmati ad alta qualità perché noi quando facciamo i filmati delle conferenze quando facciamo le dirette streaming quando noi facciamo i montaggi video ci servono dei computer molto potenti perché se no lo streaming e fare il montaggio di un'intera conferenza di quattro ore cioè quando si fa la renderizzazione del filmato finale ci vuole praticamente una giornata intera per renderizzare un filmato così grosso oppure quando facciamo la renderizzazione di un'intera conferenza di otto ore non potete capire il computer come lavora se invece noi abbiamo un computer di ultima generazione con un processore i sette di ultima generazione i nove di ultima generazione abbiamo la possibilità di lavorare con determinati tipi di programmi e fare determinati tipi di montaggi in alta qualità in hd in full hd non dico in 4k perché noi non ci serve però lo possiamo fare anche in tempo reale mentre stiamo all'interno della conferenza perché per fare le dirette streaming ci vogliono dei processori e dei computer molto prestazionali molto potenti perché se no abbiamo il problema che l'immagine lagga che abbiamo praticamente dei scatti sulla linea non siamo in grado di mettere le altre risoluzioni perché i processori non riescono a gestire determinati tipi di programmi in tempo reale perché tante persone dicono che noi ci arricchiamo con 3 euro e 30 al mese della tessera dell'associazione che ho detto ma con 3 euro e 30 al mese non c'è compri manco un pacchetto di sigarette sono 3 caffè anzi una colazione forse due colazioni con nette cappuccino cioè noi io devo gestire blog canali pensate non ho potuto fare il contratto pro sulla mia radio web emiliano babilonia speaker perché non ho i soldi per poterlo fare allora devo cercare determinate soluzioni o avere la possibilità io essendo un tecnico cerco di trovare dei componenti usati per assemblare dei pc di computer o assemblare delle strumentazioni perché voglio creare anche un radiotelescopio o un radar telescopio che serve per vedere determinate frequenze provenienti dal dallo spazio e individuare determinate frequenze che potrebbero essere le frequenze che interagiscono sul corpo delle vittime del controllo mentale sul corpo dei target individuals perché alcuni guru o alcuni disinformatori veneti hanno detto che loro hanno il microchip in testa e che nessuno li voleva operare perché tutti avevano paura di parlare di questo microchip invece non è vero questo il microchip non ce l'aveva e andate a dire a tutti che c'era sto microchip di qua e di là è stato operato era praticamente una sorta di cartiragine una sorta di non non si capisce bene ma non c'entrava niente con microchip neurali e poi il microchip te lo mettono se è un microchip neurale te lo dovrebbero mettere dentro al cervello non dentro al naso perché se te respiri un metallo e sto metallo te rimane qui e poi ti vai a dire in giro c'è un microchip c'è un microchip si vede si vede perché sta qua quello non è il microchip ti stai creando disinformazione stai rovinando le vittime il controllo mentale perché le vittime poi vanno a denunciare che hanno il microchip in testa le prendono per pazze malate le mente le ricoverano in tso e questo non deve succedere una ragazza di milano ha speso 25 mila euro tac risonanze magnetiche e lastre frequenze di contrasto di tutto e di più e gli hanno detto ma te l'ha detto che c'è sto microchip in testa a no perché ha fatto del filmato di quello lì e quelli hanno detto no lascia stare ma non è proprio così non stanno facendo questo e dopo mi ha scritto dopo anni che ha speso tutti questi soldi ha detto se lo sapevo prima ho creduto a questa persona io ho detto ma l'associazione veneta ma che ti ha portato in una clinica privata a fare delle analisi sì ma era un appagamento sì e tutto quello che hai fatto lì ovviamente era tramite quella anomale associazione sì ho capito io non ho mai detto a una vittima che si associa la nostra associazione centri di ricerche gruppo emiliano babiliano gruppo vittime controllo mentale che la testa costa 33 euro al mese di andare a fare operazioni di andare a fare eh a lastre tacche risonanze magnetiche io ho potuto dare un consiglio alle persone se avete un determinato tipo di disturbo che sta nel vostro cervello o che sta nel vostro braccio o nel polmone o nel ginocchio andate prima a fare delle lastre delle risonanze magnetiche o delle scintografie per vedere che cosa avete realmente su questo ginocchio o se o probabile simulano o probabilmente simulano quel tipo di patologia se dalle analisi che voi farete si risconterà che non avete niente cioè fate la lastra non c'è niente la disonanza magnetiche non c'è niente fate scintografia non c'è niente o tanto o tanto altro allora lì venite attaccati con le armi ad energia diretta dove convogliate ma se noi non vediamo non capiamo e rimaniamo sempre con il dubbio come un ragazzo c'aveva un grave problema in testa e lui diceva no mi attaccano mi hanno messo il microchip mi hanno messo il microchip e gli ho detto guarda vatti a far vedere perché potrebbero essere altre cose lui è andato a farsi vedere gli hanno trovato che praticamente gli si stava creando una piccola macchiolina all'interno della testa e gli stava avendo una sorta di ischemia cerebrale allora lui che ha fatto immediatamente addirittura gli ha detto il dottore dice è stato un miracolo che sei venuto loro scusate loro praticamente lo hanno curato non so se è stato operato oppure no non lo so questo però ha fatto delle cure e praticamente lui adesso sta bene non ha nessun tipo di problema non ha avuto nessun tipo di danno a livello cerebrale fisico motorio dice è stato preso in tempo il l'eschemia cerebrale quindi prima bisogna andare a vedere questo dopo fatto questo bisogna capire come ti stanno attaccando come difenderti perché le vittime che mi mandano un email ti dico tutto quello che mi è successo nella vita il vicino quello l'olio lo zingaro le galline i piccioni i cani che abbagliano no noi dobbiamo denunciare tecnologie di controllo e spionaggio e pedinamento questo è quello che dobbiamo denunciare non dobbiamo denunciare le stupitaggi non dobbiamo denunciare le cavolate mi vengono a vedere di notte il telefono dentro casa e vedono e rispondono nelle mie chat quello non ce ne può fregare di meno a noi ci serve da sapere le modulazioni di frequenza i puntatori gps le ampiezze delle frequenze in gigawatt se sono frequenze millimetriche se sono frequenze scalari se operano con le bande cubiche ricordatevi che chi opera queste tecnologie non usa le stesse tecnologie che usano le persone comuni le tecnologie militari usano frequenze militari usano delle decriptazioni militari non è che con semplice uochi tochi dovete ascoltare l'intelligence o il controspionaggio o i servizi segreti sennò sarebbe facile no allora voi dovete capire interagire ed entrare in un mondo parallelo che ha una tecnologia che noi riusciremo a vedere da qui a 30 anni non l'applicazione che la trovi su internet il giocattolino che lo compri sui vari social sui vari siti ho trovato l'apparecchio che mi attacca 20 euro 30 euro 50 euro l'apparecchio che ti attacca ma qui parliamo delle camere da 25 mila euro e ti dico quella che costa di meno ma la telecamera deve essere collegata a un server questo server è un computer che elabora tutti i dati di questa telecamera per creare l'immagine multispertrale tridimensionale o virtuale qui parliamo di centinaia di miliardi di tecnologie no il giochettino l'apparecchietto la frusta gangana ho detto ma che cosa è sta frusta gangana un giorno una signora di Firenze mi manda la frusta gangana ma che cavolo era una specie di frustino dove c'era una una pila all'interno e questa frusta funziona come funzionano le come si chiamano le racchette per uccidere le zanzare spingi il pulsante si crea la differenza elettrica tra i due contatti metallici quando la zanzara praticamente passa attraverso la racchetta tocca i due contatti e praticamente si elettrizza e la zanzara muore muore di fulminata a un certo punto la signora mi ha portato la stessa identica cosa le mucche quando va il pascolo per addestrare i cavalli per addestrare i cani per per addestrare determinati animali per farli allontanare quelli non si allontanano la vai con quello e gli è una sorta di scossa allora quelli li prendono e scappano e si allontanano e fanno quello quello che praticamente uno gli ordina di fare lei diceva che i condomini del palazzo avevano acquistato questa frusta e che la frustavano a distanza e che lei aveva scoperto uno stalker che in realtà stalker non era era una vecchietta ad 80 anni che stava con l'ombrello perché fuori pioveva invece le ha detto che all'interno dell'ombrello era stata nascosta la frusta gangam quella che spara la frusta elettrica che spara gli impulsi elettrici sul corpo io gli ho detto guarda non andare in giro queste cose non andare a fare la denuncia perché sennò c'è il rischio che ti fanno una contro denuncia e passi guai te la signora ha detto che io non studio che io non ci capisco niente e che io non sono un ricercatore e che lei ha capito tutto e quindi io non gli servo più perché lei con le sue conoscenze con i suoi studi ha capito cose che altri non hanno capito mi ha portato un hard disk due terabyte di riprese per strada riprende tutte le targhe delle macchine e ad alta voce dice il numero della targa della macchina perché ha detto che lei deve riconoscere i stalker che la inseguono ho detto ma come fai su 500 600 700 800 mille macchine che passano a capire quello quello che ti insegue eppure no dice che lei va a casa e si va a rivedere tutti i filmati per vedere se riconosce le targhe dei condomini del palazzo che l'attaccano con la frusta gangam secondo voi questa persona se la portiamo in televisione o la portiamo a fare una denuncia e a fare una testimonianza in un tribunale è credibile oppure no io credo di no amici scrivetemi sulla mia email vittime del controllo neurale chiocciolagmail.com oppure chiedetemi l'amicizia sul mio nuovo account pubblico emiliano babilonia italia il nuovo account di facebook è un account pubblico do l'amicizia a tutti lì basta che siete persone attendibili con account attendibile un'altra cosa se volete parlare direttamente con me per fare le interviste testimonianza mi potete sia scrivere tramite l'email oppure mi potete mandare un messaggio tramite messenger emiliano babilonia italia io poi vi risponderò dopo che mi avete chiesto l'amicizia io poi vi risponderò e ci metteremo d'accordo per parlare in audio o se volete si potrà parlare anche in videochiamata e se volete possiamo fare l'intervista testimonianza che pubblicherò poi sui miei canali di youtube e sulla mia radio web ho altre tre nuove interviste testimonianza di tre vittime che devo ancora montare e poi pubblicherò sul mio canale di youtube angeli custode mk oltre italia cliccate la campanellina così ogni volta che io metterò un nuovo video vi arriverà la notifica per andarlo a vedere oppure se sto in diretta vi arriva la notifica così potete vedere in questi nuovi filmati iscrivetevi sul mio canale angeli custode mk oltre italia e sul mio secondo canale emiliano babilonia c'è la fotografia con l'occhio nero io ho un altro account emiliano babilonia l'hanno bloccato perché io ero entrato con quell'account con un account mi pare di facebook o qualcosa del genere che mi hanno bloccato e io non posso più accedere in quel account e in quel canale di youtube sto cercando di recuperarlo come lo recupero quell'account e quel canale diventere emiliano babilonia 2 perché stiamo creando la tv web la radio web già l'abbiamo creata però stiamo creando la tv web per poter ampliare determinati programmi con ospiti importanti che metteremo all'interno di un palinsesto settimanale oppure mensile e poi pubblicheremo su tutti quanti i nostri social una cosa importante mi sono fermato di fare incontro caffè radio di web per il problema del coronavirus però stiamo cercando di fare una diretta streaming con dei ricercatori e persone molto importanti così potremo parlare in tempo reale fare una diretta streaming con più persone io poi pubblicherò questo evento e praticamente una volta che pubblicherò questo evento voi potete poi assistere alla diretta oppure a riascoltare la registrazione quindi un saluto a tutti amici iscrivetevi sul mio canale youtube e iscrivetevi sul mio nuovo account di facebook emiliano babilonia italia un saluto a tutti amici ricordatevi che quello che ho detto su questo video è quello che ho detto del coronavirus su tutti gli altri video si è tutto avverrato tutto avverato loro stanno aspettando i soldi dell'europa quando arrivano i soldi dell'europa miracolosamente esce il vaccino esce la cura e incominciano a diminuire i casi di contagio e incominciano a diminuire i morti finché non gli danno questi i morti aumenteranno i contagi arriveranno fino a un certo punto poi si stabilizzeranno perché c'è qualcuno dietro che manovra questo sistema deviato perché loro gli interessano i soldi con i soldi creano tecnologie e con le tecnologie creano società con le società creano sistemi che vengono immessi all'interno delle borse a livello mondiale adesso le borse sono crollate questi prendono i soldi investono tra un anno due fra dieci anni le borse si alzano e loro da poveri per modo di dire da ricchi poveri diventeranno straricchissimi e questo è il loro sistema questo è la loro il loro scopo chi opera per le società di collaudo e attestazione di satelliti di spia guadagnano l'era di dio perché il lavoro più pagato a livello mondiale sono proprio tecnologie spaziali e fateli dai nuovi satelliti sono satelliti dell'interforce geospaziale e dell'intelligence geospaziale le tecnologie più avanzate a livello mondiale un saluto a tutti amici